Non è passata inosservata la notizia della paventata chiusura del reparto di neurofisiopatologia dell'ospedale veneziale? Così il Presidente del Consiglio Comunale di Isernia, Giuseppe Lombardozzi, ha inserito un altro punto all'ordine del giorno della seduta che si svolgerà domani, 4 luglio alle 16.30, a Palazzo San Francesco. Iniziative a difesa della sanità pubblica, con particolare riferimento alla paventata chiusura presso l'ospedale veneziale del reparto di neurofisiopatologia clinica. Questo è il punto all'ordine del giorno che sarà discusso in aula, a testimonianza di come l'argomento vada affrontato urgentemente. E sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione e serrare così le fila in vista di mesi che si prevedono molto duri sul fronte della sanità pubblica isernina. Infatti le voci corrono e dicono che si starebbe attendendo solo l'allestimento del reparto al Cardarelli e poi neurofisiopatologia chiuderebbe i battenti all'ospedale di Isernia, con la stroke unit che verrebbe trasferita a Campobasso. A lanciare l'allarme ancora una volta il comitato in seno al problema, movimento creatosi in difesa di senologia, altra unità operativa del capoluogo Pentro a rischio. La chiusura del reparto era già prevista nel contestato piano sanitario e quanto dichiarato da Emilio Izzo, portavoce del comitato, che si è detto pronto a tutto pur di evitare l'ennesimo taglio. Nei mesi scorsi, a dire il vero, anche alcuni esponenti politici isernini, tra cui il sindaco Giacomo D'Apollonio, avevano preso parte alle manifestazioni di protesta in difesa del reparto di senologia, che di fatto sembra avere i giorni contati, ma domani il confronto in consiglio comunale potrebbe servire per decidere una linea strategica comune in difesa anche di neurofisiopatologia. Del resto si sa, in queste battaglie l'unione spesso fa la differenza.